La pandemia fa calare i furti e gli arresti nella provincia di Pesaro e Urbino, sempre attivo invece lo spaccio di droga, in particolare l'eroina, sempre più ricercata tra i consumatori. A Urbino denunciata una persona che si divertiva a spaccare le tombe, rubare oggetti sacri, lasciare escrementi sugli epitaffi e imbrattare le foto dei defunti con un pennarello nero. Lupi fanno strage di caprette in un'azienda agricola di Monbaroccio, soltanto una di loro si salva nascondendosi sotto la carcassa di un altro animale ucciso e pezzi ritrovate a un chilometro di distanza. Siamo al lavoro per riportare a casellisippolo, assicura Riccardo Nencini, presidente della Commissione dei Beni Culturali, in visita oggi a Fano. Presidio di Fratelli d'Italia a Pesaro contro il degrado. Al flash mob c'erano alcuni parlamentari, consiglieri comunali e l'assessore regionale Francesco Baldelli. Tra poco in diretta su Fano TV, primo cittadino con il sindaco di Terre Rovereschi, Antonio Sebastianetti. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. L'informazione locale sul canale 17 di Fano TV. Occhio alla notizia. Ben ritrovati, cari telespettatori. In primo piano il bilancio stilato dalla Polizia di Pesaro e Urbino, dalla Questura, in occasione del 169esimo anniversario della Fondazione. In calo, a causa della pandemia, i furti e gli arresti, mentre è sempre attivo lo spaccio di stupefacenti. Il Covid fa calare furti e arresti, ma non lo spaccio di droga. È il quadro emerso dal bilancio 2020-2021, presentato sabato scorso dalla Questura di Pesaro, che ha voluto celebrare il 169esimo anniversario della Fondazione del Corpo di Polizia di Stato. Per il secondo anno consecutivo la pandemia da Covid ha imposto la massima sobrietà nelle celebrazioni, per questo anche a Pesaro non si è tenuta la consueta cerimonia pubblica, ma negli uffici di Via Flacco è stata comunque deposta una corona di fiori in memoria dei caduti della Polizia di Stato, alla presenza del Questore Michele Todisco e del Prefetto Vittorio Lapulla. Poi il bilancio dell'attività svolta dalla Polizia di Stato nella nostra provincia, relativo al periodo compreso tra il 1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021, che ha messo in evidenza come siano calati i reati, furti in casa soprattutto, ma anche quelli in autovetture, scippi e borseggi. Il numero di furti denunciato, ad esempio, si è dimezzato rispetto all'anno precedente, passando da 1.025 a 609. Un notevole decremento della criminalità in genere, diciamo, sul territorio. I reati predatori, in particolare i furti e rapini, si sono dimezzati. Non invece, e lo spazio che stiamo facendo, i numeri sono quelli più o meno degli anni precedenti. Le chiusure hanno determinato naturalmente una difficoltà ulteriore per i criminali di raggiungere i loro obiettivi. Noi abbiamo fatto sacrifici enormi, non solo perché anche noi, come tutti, siamo stati colpiti dal virus, ma abbiamo impiegato tutto il personale, gran parte del personale, nell'attività di controllo, appunto, delle disposizioni ministeriali che imponevano certe restrizioni. Colgo l'occasione per ringraziare personalmente tutto il mio personale e gli altri colleghi delle forze di polizia, che le rabbini, la Guardia di finanza, le polizie locali, che hanno svolto e stanno svolgendo in questo periodo un notevole lavoro e una grande collaborazione. Altro dato da non sottovalutare, dal bilancio illustrato è emerso che per quanto il virus abbia messo in ginocchio tantissime attività e imprese del territorio, non risultano infiltrazioni della mafia nel tessuto economico della provincia. E a proposito di droga, i carabinieri di Mondolfo hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze superfacenti tre ventenni del posto, trovati in possesso di 100 grammi di ascici. I ragazzi sono stati fermati a calcinelli a bordo di un'auto noleggiata. Durante la perquisizione del mezzo è stata rinvenuta la droga nel cruscotto, ben nascosta dalle paratie in plastica, che è stato necessario smontare. Questa mattina si è svolta l'udienza di convalida, all'esito della quale i tre giovani, già noti le forze dell'ordine, sono stati condannati alla pena di 11 mesi di reclusione. Spaccava le tombe, rubava oggetti sacri, lasciava escrementi sugli epitaffi, imbrattava le foto dei defunti utilizzando un pennarello di colore nero. E' accusata di violazione di sepolcro, vilipendio delle tombe, danneggiamento e furto aggravato la persona di mezza età denunciata ieri dal comando della compagnia Carabinieri di Urbino. L'attività di indagine dei militari è iniziata nel 2019, dopo la denuncia di sette cittadini che preoccupati ed indignati hanno raccontato all'arma quanto stava accadendo nel cimitero di Sasso Corvaro Auditore. Alcuni oggetti trafugati che sono stati rinvenuti nei campi vicini sono stati restituiti a legittimi proprietari, ma rimane ancora da chiarire il movente. Infatti pare che la persona non abbia problemi psicologici né che abbia compiuto questi atti per contrastare la religione oppure il credo. Ancora cronaca, un'autocisterna si è scontrata con un'auto ed è uscita fuori strada ribaltandosi. È successo oggi lungo la strada provinciale 12 Corinaldese nel comune di Senigallia. Per causa ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante che dopo l'urto con l'autovettura è finito nel fosso adiacente alla carreggiata, rimanendo capovolto. Per fortuna entrambi i conducenti ne sono scitillesi, sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici dell'ARPAM per verificare i rischi di inquinamento ambientale. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Ha fatto tappa nelle Marche il Ministro degli Affari Regionali Maria Stella Gelmini, che ha incontrato il Presidente della Regione Acquaroli e il Commissario per la Ricostruzione Legnini. Il Ministro ha parlato di riaperture collegate all'andamento dei vaccini ed di un'attenzione per il centro Italia, in particolare per le zone colpite dal terremoto. Si è complimentata con la Regione per la gestione del piano vaccini il Ministro degli Affari Regionali Maria Stella Gelmini, oggi in tour nelle Marche, dove ha incontrato il Governatore Francesco Acquaroli e il Commissario alla Ricostruzione per le zone del terremoto Giovanni Legnini. Il Ministro ha aperto la conferenza stampa nel pomeriggio parlando della pandemia. Le Marche, ha detto, hanno pagato un prezzo altissimo con quasi 2.800 vittime, ma oggi vediamo al tunnel e la fine di un incubo. Come ha detto Figliuolo qualche giorno fa, ha proseguito Gelmini, c'è un grande lavoro della Regione sul piano vaccinale. Il Governo si è assunto la responsabilità di individuare le categorie più esposte e le priorità. Nelle Marche più del 70% degli over 80 ha ricevuto la prima somministrazione e la metà anche il richiamo. Questo per noi è un dato estremamente positivo perché è chiaro che il tema delle riaperture andrà di pari passo con l'andamento dei contagi, che come ci dicono i dati, l'andamento sta migliorando e al tempo stesso sarà decisiva per la riapertura la quantità di persone fragili e over 80 vaccinate. Ma accanto all'emergenza sanitaria, poi ha aggiunto il Ministro, dobbiamo affrontare di pari passo la crisi sociale ed economica. È fondamentale il confronto che il Governo ha sistematicamente con i governatori e gli enti locali. È necessario utilizzare le risorse dei Recovery Fund per quelle aziende e quelle realtà che sono in condizioni di potersi rialzare. Perché sappiamo che all'interno del Recovery è previsto 1 miliardo e 700 milioni da destinare alla ricostruzione, ma il modello, se posso, il paradigma che la Regione Marche propone è quello di affiancare alla questione prioritaria della ricostruzione una grande attenzione alle attività economiche. Dobbiamo colmare il divario tra nord e sud, ha aggiunto, senza dimenticare il centro Italia affrontando i temi della desertificazione e dello spopolamento che purtroppo è in atto. Il Ministro crede che sia importante valutare l'ipotesi di una ZES, una zona di economia speciale, da applicare al territorio del sisma per evitare di retrocedere negli indici di sviluppo economico e occupazionale. Io trovo come un'idea brillante quella di utilizzare, di fare di una zona di economia speciale anche in questo territorio, proprio per evitare che ci sia un salto all'indietro e quindi uno scivolamento verso quelle condizioni che oggi appartengono a molte regioni del mezzogiorno. Dobbiamo intervenire per tempo, ha dichiarato Gelmini, per aiutare le imprese e gli autonomi che hanno sofferto la pandemia, senza dimenticare il tessuto manifatturiero. Dobbiamo tornare a produrre in questo territorio. Tutto sta dietro a una progettualità che deve far fronte all'emergenza sanitaria e mettere le basi per una ricrescita e ripartenza a medio periodo. Il rilancio industriale e quello infrastrutturale e le ipotesi di utilizzare la ZES sono le tre direzioni che credo debbano essere accolte dal Governo centrale. Sul fronte economico, ha concluso il Ministro, abbiamo tutti la responsabilità di gettare le basi per un futuro di speranza e di ripartenza. Da questa situazione dobbiamo uscirne più forti di prima. Sono 11 i decessi legati al coronavirus che si sono verificati nelle Marche nelle ultime 24 ore, tra le vittime anche una cinquantenne di mateliche in provincia di Macerata, le prese con patologie pregresse. Nessun decesso invece è avvenuto nella provincia di Pesaro Urbino. I positivi rilevati sono 111, un numero basso che come sempre nei giorni post-festivi legato al calo di tampone analizzato che è di circa 1.800 unità. La metà dei casi è stata registrata in provincia di Ancona. Negli ospedali invece della Regione ci sono 5 pazienti in più rispetto a ieri, ma tutti nei reparti non intensivi. Rimane invariato quindi il numero dei degenti in terapia intensiva, che è fermo a 129, e in semi-intensiva, che sono 199. È aperta da qualche giorno la lista di adesione alla vaccinazione sul sito di Asur e della Regione dedicata agli operatori sanitari e sociosanitari non iscritti agli ordini professionali e non dipendenti delle strutture pubbliche, ma che fanno comunque parte della categoria, tra questi gli educatori nei centri privati, gli assistenti alla poltrona e OS. Invece, gli operatori dipendenti delle strutture pubbliche che non si sono ancora prenotati per il vaccino possono richiederlo direttamente al proprio ente di appartenenza. Tutti gli altri soggetti che lavorano nelle strutture private potranno aderire rivolgendosi al proprio ordine professionale al quale è stato fornito l'apposito accesso di prenotazione. Dopo i tamponi rapidi agli studenti delle scuole medie, domani riparte lo screening per gli studenti delle superiori, stiamo parlando ovviamente del comune di Pesero. Per la terza volta, spiega il Sindaco Ricci, monitoriamo i ragazzi per garantire loro un ritorno in classe in tutta sicurezza. Attualmente lo screening è l'unico modo per farlo perché i giovani fino a 16 anni sono fuori dalla campagna di vaccinazione e dai 17 anni in su lo faranno probabilmente in estate. Si comincia quindi domani e si proseguirà mercoledì 14, martedì 20 e mercoledì 21 aprile. Il calendario e gli orari e tutte le informazioni potrete trovarli sul nostro sito internet occhiolanotizia.it. Siamo al lavoro per riportare a casa il lisippo, lo ha assicurato oggi Riccardo Nencini, presidente della Commissione dei Beni Culturali, che ha fatto visite alla città di Fano. Ci stiamo lavorando, c'è un affare assegnato alla Commissione Cultura del Senato che riguarda i beni esportati illecitamente. Così il senatore presidente della settima commissione permanente Riccardo Nencini in visita a Fano oggi per annunciare le novità sull'isippo. L'atleta vittorioso di proprietà dello Stato italiano, ma ancora il Getty Museum di Malibu, che nonostante la sentenza definitiva della Cassazione, nega ogni disponibilità a restituire la statua di bronzo. L'importante intanto è mettere in campo l'autorevolezza del governo italiano, le nostre relazioni diplomatiche per raggiungere questo obiettivo. Ognuno farà, ne sono convinto, la sua parte. Nencini, che in mattinata ha visitato alcuni luoghi e monumenti più suggestivi della città, come la chiesa di San Pietro in Valle, l'ex chiesa di San Francesco e il museo archeologico, si è recato anche al teatro romano, definito dal senatore un'opera straordinaria. Una parte è già scavato, si collega perfettamente anche con il piano di sopra, che è la Filanda, quindi l'archeologia industriale. So che il sindaco sta già immaginando una progettazione veramente bella, me ne ha parlato, ma non ho visto carte, però non è una questione soltanto di Fano. Cioè è di Fano il teatro, ma ha caratteristiche tali da rappresentare un bene che va ben oltre i confini anche regionali. Soddisfatto della visita, il sindaco Massimo Seri, che con Nencini ha incontrato la stampa e le istituzioni a Palazzo Malatestiano. Sindaco, continua questa vostra battaglia per riportare a casa il Lisippo. Quale potrebbe essere il contenitore più adatto per ospitarlo? Intanto non è una battaglia della città di Fano, è una battaglia del paese, perché appartiene al nostro patrimonio e io ritengo sia giusto che ritorni in Italia. e con Fano c'è un legame fortissimo, tant'è che è l'atleta di Fano e noi saremo pronti già oggi stessi ad ospitarlo, perché abbiamo uno spazio come la Sala Morganti, che ha già ospitato i disegni originali di Leonardo e quindi più che adeguata, ma soprattutto in prospettiva anche sugli investimenti che stiamo facendo, come l'ex Filanda, che ospita anche il Teatro Romano, quindi area archeologica indicatissima, anche con un nuovo contenitore che potrebbe diventare un attrattore mondiale. Ecco appunto anche proprio sul Teatro Romano ci sono delle novità, ha detto che stanno uscendo delle cose interessanti e forse potrebbe essere aperto al pubblico già da quest'estate. Questo sì, ma quello che mi piace sottolineare è la maestosità di questo patrimonio, che dimostra cosa Fano in Fortuna rappresentava nel periodo dell'antica Roma. Un tesoro importantissimo, sulla quale noi facciamo grossi investimenti, però anche la visita di oggi ha un obiettivo particolare, quello di far comprendere che non è un patrimonio della nostra città o della nostra regione, ma è talmente importante che riguarda il Paese. Nuovo attacco dei lupi che hanno sbranato 13 caprette, successo sabato scorso in un'azienda agricola di Via Bevano a Monbaroccio, in provincia di Peso Urbino. A fare la scoperta, ieri mattina è stato il titolare, su 14 capi di bestiame, 13 sono stati uccisi, mentre uno pare che sia riuscito a salvarsi nascondendosi sotto le carcasse di altri animali. Sono stati ritrovati pezzi di animali a un chilometro di distanza, ci hanno raccontato, e sia per le modalità che per il tipo di attacco, crediamo sia stata opera di un lupo, probabilmente hanno attaccato in branco. Immagini forti, naturalmente, che abbiamo volutamente anche oscurato, reso in qualche modo poco nitide. Nella notte, tra sabato e domenica scorsi, i vandali hanno imbrattato il famoso profermo di Serrungarina. A condannare il gesto è stato il Comune di Colli del Metauro, che ha definito l'atto vandalico uno scempio commesso in uno dei luoghi pubblici più belli del centro storico, ad opera di qualche individuo poco intelligente che non sapeva come passare il tempo. L'amministrazione ha dato mandato alle forze dell'ordine di indagare per individuare i responsabili. Siamo fiduciosi, hanno commentato dal Comune, che scoveremo ben presto chi pagherà le spese che la collettività dovrà sostenere per la pulizia e del ripristino dello Stato dei luoghi. Presidio di Fratelli d'Italia, oggi a Pesaro, contro il degrado in cui versano alcune zone della città. Al flash mob organizzato al Monumento della Resistenza, erano presenti diversi parlamentari, alcuni consiglieri comunali e anche l'assessore regionale Francesco Baldelli. È andato in scena poco fa un flash mob qui nell'area del Monumento della Resistenza organizzato dal Circolo Fratelli d'Italia di Pesaro per dire basta al degrado in quest'area. Tra gli altri era presente anche l'onorevole Francesco Lollobrigida. La sicurezza è un tema serio che va affrontato, soprattutto nelle nostre più grandi città. Quindi collaborazione a tutti i livelli, a partire dalla sanità passando per il mezzo delle infrastrutture fino ad arrivare alla sicurezza. Questo è un luogo simbolo e purtroppo ormai teatro da molti anni di tantissimi eventi di cronaca, di spaccio, di droga. È un problema ormai irrisolto, è un problema che noi vogliamo tenere alto come attenzione anche come regione e quindi siamo qui proprio per questo, per sostenere fortemente questa iniziativa e chiediamo una forte attenzione. L'attenzione nei confronti di questi che sono i problemi, quelli seri, quelli veri della città e quindi meno apparizioni ma sicuramente più concretezza nel risolvere questi problemi una volta per tutte. Con le forze dell'ordine, con la prefettura, con gli organi preposti, trovare una soluzione radicale, definitiva, che porti veramente a risolvere questo problema. In parchi come questo si denota quello che sta accadendo in Italia, che è drammatico. Ci sono i cittadini italiani chiusi in casa, impossibilità di frequentare i ristoranti, le palestre e invece in alcuni luoghi, territori franchi, ci sono alcuni soggetti che delinquono. Ovviamente Fratelli d'Italia non deve fare il vigilante, Fratelli d'Italia deve denunciare quello che avviene e che i cittadini di Pesaro conoscono, sperando che invece l'amministrazione comunale possa ricominciare ad attenzionare queste criticità e a guardare con più attenzione il proprio territorio. Non è possibile che le nostre forze dell'ordine oggigiorno vengono prese in giro e maltrattate da questi criminali di poco conto che impiegano le risorse per la sicurezza che sono fondamentali per tutti i cittadini con reati bagatellari che intasano solo i tribunali. Di conseguenza partire da Pesaro per garantire la sicurezza in tutti i territori. Allora adesso torniamo invece a parlare dell'aumento dell'acqua, delle bollette dell'acqua applicato due anni fa da Aset in modo retroattivo. E lo facciamo, quindi torniamo a parlare di questo, perché il giudice di pace ha dato ragione ad un cittadino che aveva fatto ricorso e ha condannato l'azienda pubblica a restituire quanto percepito. Ora, Bene Comune e il Movimento 5 Stelle di Fano chiedono che venga restituito a tutti gli utenti quanto pagato in modo a dir loro illegittimo. Era il gennaio 2019 quando famiglie imprese si vedero arrivare le bollette dell'acqua contenenti un aumento notevole della tariffa anche per centinaia di euro. Infatti pochi mesi prima venne approvata una delibera con la quale si stabilì l'incremento con effetto retroattivo dei consumi a decorrere dal 1 gennaio 2018. A far battaglia alla vigilia dell'ultima tornata amministrativa furono Bene Comune e il Movimento 5 Stelle che ritenevano il provvedimento ingiusto e illegittimo esattamente come un cittadino che per questo fece ricorso. E venerdì è arrivata la sentenza del giudice di pace di Fano che ha riconosciuto fondate le ragioni che i consiglieri e gli esponenti di partito avevano espresso anche durante un incontro pubblico e ha condannato l'ASET a restituire quanto incassato in violazione delle norme vigenti perché applicate retroattivamente. Erano due tipi di aumenti un aumento generale percentuale sulla tariffa per tutti i cittadini e imprese del 5,9% e poi un aumento per quei nuclei familiari composti da una o due persone dovuto a una rimodulazione delle tariffe del servizio idrico che erano parametrate non più su un nucleo familiare standard di tre persone ma sulle singole unità del nucleo familiare. La decisione comunque non definitiva perché pronunciata in primo grado riguarda il singolo utente ma ora i pentastellati e Bene Comune lanciano un appello al Comune di Fano socio di maggioranza e titolare del controllo della società di servizi affinché intervenga per una parità di trattamento nei confronti dell'intera cittadinanza. Nei prossimi giorni verrà depositata una mozione aperta alla sottoscrizione di tutti i consiglieri. Questo principio che è stato formato con riferimento a un caso singolo ma ovviamente vale per tutti gli altri cittadini chiediamo che il Comune non costringa i cittadini ad onerose e dispendiose vertenze giudiziarie ma che ripristini la legalità violata dando indicazione a Daset di ottemperare di ricepire il principio enunciato dal giudice di pace di Fano ma che conferma già tante altre pronunce nello stesso senso restituendo spontaneamente ai cittadini quanto è all'impresa quanto riscosso in maniera illegittima. E non si placano le polemiche dei residenti del quartiere di Gimarra siamo sempre a Fano che contestano il nuovo progetto della variante per il Comitato che si fa portavoce delle famiglie del quartiere il nuovo percorso è peggiore del precedente infatti l'opera è ritenuta inutile e dannosa dal punto di vista ambientale in particolare vengono criticate sia la rotatoria del Carmine sia il passaggio del nuovo tratto dell'interquartiere a pochi metri dal circuito ciclistico Marconi il Comitato che nei prossimi giorni sarà accolto in regione dall'assessore Francesco Baldelli ha proposto a Massimo Seri un incontro tra i quattro sindaci Fano, Mondolfo, Pesero e Gabice per studiare un percorso alternativo e adesso apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri alla fanese Anita Tinti che ieri ha compiuto 100 anni a festeggiare anche il sindaco di Fano Massimo Seri l'assessore Dimitri Tinti in visita alla struttura Famiglia Nova dove Anita è ospite l'incontro è stato possibile grazie ad un parete in plexiglass che ha permesso di salutare la centenaria nonostante il momento difficile segnato dal distanziamento sociale ha commentato il sindaco abbiamo voluto portare una carezza di affetto ad Anita Restate con noi tra pochissimo dopo la pubblicità delle previsioni del tempo di nuovo in diretta con Primo Cittadino l'ospite di Simona Zonghetti lo vedete nel cartello è il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli noi ci vediamo invece domani mattina alle 7 puntuali con la rassegna stampa Occhio ai giornali arrivederci grazie a tutti grazie a tutti